ciao a tutti e benvenuti sul mio canale in questo video vi farò vedere come dipingere una bottiglia con all'interno il suo contenuto come nel caso del bicchiere sfrutteremo il fondo per creare le sfumature e gli effetti di luce con il colore bianco disegniamo la bottiglia creiamo la forma partendo dai due lati dell'oggetto ora usiamo il colore rosso scuro per creare il liquore all'interno e con le velature creiamo gli effetti di luce con il colore bianco proseguiamo con le velature sulla bottiglia il colore va diluito con acqua in modo che le velature fanno trasparire i colori sottostanti infine andiamo a dare dei colpi di luce con un colore chiaro in questo caso io sto usando il giallo di napoli chiaro e per la parte inferiore giallo di napoli rossastro grazie a tutti grazie a tutti proseguiamo con i colori chiari per evidenziare la rotondità della bottiglia grazie a tutti 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 e con il colore giallo di napoli rossastro andiamo a dare delle pennellate più spesse per creare la rotondità della bottiglia della parte inferiore. Mi auguro che questo tutorial vi sia stato utile e se avete domande scrivete pure sotto al video. Vi ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!